Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti su... Nel Gain Conti Full Raw! Raw Surprise! Perché... Raw Surprise! Anita ci fa... Una pudro e la... Ci fa la sigla che è molto carina ragazzi e adesso andremo ad attaccare sul nostro album le figurine che abbiamo spacchettato qualche giorno fa Allora ragazzi, siamo pronti ad iniziare? Sì, abbiamo trovato qualche doppione Abbiamo trovato qualche doppione Guarda! Questa è quella lì Ecco quella lì, è la 6 Qui che c'è un poster, questo lo possiamo pure mettere fuori Va lì quella? Sì Vedi? È la numero 6 e va lì Vedi? Ok, l'attacchiamo? Quindi subito, la prima figurina è mancante E' giusto Te l'appoggio così, la mettiamo dritta dritta Guarda! Guarda! C'è di passia quella lì Sì, è quella lì E due lille! Ci sono anche due lille? Sì, guarda qua! Qua, vedi? I occhioni Vai! Attacchiamo! Vedi qua! Una lille? E' vero, qui sotto ci sono le lille Che sono le sorelline del... L'anze Surprise! Guarda! C'è più le pippe c'è Che pizza qua! Non ho letto! Ma ci sono anche qui le lille, vedi? Guarda! L'abbiamo quasi completata Questa figura ci manca soltanto la 1 e la 5 Guarda! Questa è la sua? Queste sono le card Guarda! Abbiamo trovato questa E questo è un sbaglio E poi? Ma qui bisognerebbe prendere una penna E segnare quelle che abbiamo E questa? Esatto! Noi adesso ce le abbiamo qui le card Sì Quelle che abbiamo trovato L'abbiamo trovato la C2 E pure quella La C4 Ma se non sbaglio Ce l'avevo già questo sbaglio E la C46 Ok, dopo controlliamo se ce l'abbiamo queste card Intanto le abbiamo fatte vedere Andiamo avanti E vediamo la prossima figurina Che numero è Allora la prossima figurina È la numero 19 Eccola! Qui Va a formare Questa figurina qui Perché c'è un cielo? Qui c'è anche il maschietto Guarda! Come si chiama il maschietto delle LOL? Questo qui Punk Punk? Punk boy Punk boy Sì 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 Mi sa che hai ragione Punk boy Infatti nel cartonato Il cartonato del GPL Diceva proprio Diceva proprio Non dobbiamo vedere qualcuno Non dobbiamo vedere lui Diceva il nome Ah ok Allora poi dobbiamo attaccare la 77 Quindi andiamo avanti con l'album La 77 Vedi dobbiamo fare questo numeretto Guarda! Guarda qua! Wow! È misteriosa! Certo di dovinare qual è questa LOL Secondo me è questa qui è la B Perché su questo album ci sono anche l'articcio No vedi i codini E certo i codini questa c'è là di lui Ah i codini Dietro E anche il cecchietto Mi sa che è questa Ok andiamo avanti E arriviamo Guarda! Guarda! Lì nel pezzo Guarda! Questa non è quella mia No non è quella tua Guarda! Vedi? Ma i capelli I capelli E vanno in guarda Ehm Dai capelli la vedo la mia La 77 è questa qui Che ci manca E perché la mia Ha i capelli così come quella là E' vero Quindi è la lì Quella Sempre te sei gritte Guarda! C'è Madame Queen Eh! Madame Queen si chiama questa? Sì E non ce l'abbiamo Non l'abbiamo trovata Dobbiamo trovarla la prossima volta Questa è Madame Queen Questa è Madame Queen Sì! Ha preferito le patrie di Piero Allora la 38 La 38 l'abbiamo messa male Guarda qua! Esatto! Allora vediamo la 38 dove va La 38 va qui Questa paginetta l'abbiamo terminata Anita Ce l'abbiamo tutte su questa pagina E vai! Abbiamo terminato una pagina dell'album Del... Le surprise! Vai attacca bene la figurina Tanti, 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 tanti video tru... Tanta Zoe Tornatrice Troverai Dille No surprise! Tut but 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 but... niente metterla da parte qui 87 invece va qui che ci manca dove ci sono gli animaletti delle lol i pezzi ovviamente i pezzi sono ok guarda un gatto in piedi con l'occhiali e un cagnolino poi abbiamo la numero 100 si è fregato l'occhiali della padrona il numero 100 che va qui la 112 va qui l'attacchiamo scateniamoci si chiama questa pagina scateniamoci questa è una lol che fa festa vai che fa festa e canta eccolo un cucciolotto delle lol è bellissimo ma che è tutta brillantosa questa figurina ne vogliamo parlare e di tutti queste stelline sono veramente belle vero poi abbiamo la 142 che invece è il cucciolo delle lol vediamo un po se ce l'abbiamo ci manca guarda questo cucciolotto quanto è carino bianco con una macchia nera sull'occhio a forma di cuoricino e una macchina in testa è ultra raro è ultra raro guarda disegniamo le facce testa vicina poi guarda le macchine le lol sono queste mancano 3 figurine guarda tu devi disegnare quel cambio colore vedi mancano ok la 148 va qui sopra vedi qua vedi è vero quella è il doppione allora la prossima è il doppione Anita già ce l'ha anticipato vedi qua questa qui è il doppione ce l'abbiamo poi è pure questa hashtag tenerezza perchè le lol sono gli hashtag e pure questa tipo queste esatto mettiamole tutte insieme queste qua che abbiamo quelle che ho vicino ci sono quelle che abbiamo trovato i doppioni ok 167 invece ha un altro doppione mannaggio ragazzi abbiamo trovato 3 doppioni e le ultime 2 sono stati 2 doppioni ragazzi ci ha detto male ci ha detto male comunque non perdetevi il prossimo video delle lord surprise della vanini con lele king tv ragazzi io vi saluto a tutti ci vediamo nel prossimo video ciao